Prima che inizi il tutorial vi invito ad andare sulla home page del mio canale, iscrivervi, ma soprattutto attivare la campanella di notifica. In questo modo non vi perderete nessun video futuro che realizzerò. La procedura da smartphone è la stessa cosa, basta iscrivervi al canale e premere sulla campanellina a fianco al tasto iscriviti. Grazie per l'attenzione, vi auguro buona visione. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Inceimax. Come promesso oggi andremo a realizzare un'applicazione Android. Nel precedente video che ho realizzato, settimana scorsa più o meno, siamo andati ad effettuare un collegamento fra Arduino e il modulo Bluetooth. Abbiamo visto i due tipi di collegamento, con i pin TX ed RX e anche l'altro metodo, quindi senza usare questi due pin. Oggi nello specifico andremo ad utilizzare l'altro metodo, quindi i pin 3 e 2. La prima cosa da fare è recarsi nel mio sito web, vi lascio il link in descrizione. Scendere in basso a tutto ed effettuare questa connessione con i pin 3 e 2 che ho realizzato nel precedente video, che vi lascio sempre in descrizione. Una volta effettuato questo collegamento e aver caricato lo sketch, oggi andiamo a creare un'applicazione Android. Ho inserito questo link in basso, Meetup Inventor. Meetup Inventor non è altro che un ambiente di sviluppo per applicazioni Android. Basta premere su questo link che ci porterà in un'altra pagina. Questo è il mio ultimo progetto che ho realizzato. Inizialmente e sicuramente ci chiederà di selezionare il nostro account Google. Una volta selezionato, la prima schermata che ci ritroveremo è questa qui. Premiamo su Start New Project in alto a sinistra. E inseriamo il nome dell'applicazione. Scriviamo Arduino Bluetooth. Arduino blu è blu. Ok. Una volta aver salvato il nostro progetto, ci comparirà questa interfaccia. Alla nostra destra abbiamo le proprietà più i componenti. I componenti sono tutti quei componenti che sono presenti nella nostra applicazione. Invece le proprietà sono le singole proprietà del componente. Quindi se qua abbiamo ad esempio il componente bottone, qui nel riquadro proprietà abbiamo le proprietà per quanto riguarda il bottone. Invece a sinistra abbiamo tutti i componenti che è possibile inserire all'interno della nostra applicazione. Il nostro scopo è quello di realizzare un'applicazione che controlla il nostro modulo Bluetooth. Quindi inviare due valori, in questo caso, ad esempio faccio un esempio banalissimo, 1 e 0, il quale Arduino dovrebbe riconoscere e quindi accendere un LED. Adesso andiamo ad inserire due bottoni, quindi button 1 e button 2. Basta trascinarli da sinistra verso destra. Il nostro button 1 sarà il tasto ON, quindi il tasto che invierà il segnale 1 da Arduino. Invece il tasto 2 sarà il tasto 2, quindi invierà il valore 0 da Arduino che farà spegnere il LED. Come possiamo vedere, nella schermata componenti ci compariranno button 1 e button 2. E come possiamo vedere nella sezione proprietà abbiamo la proprietà del button 1, button 2 e screen 1. Lo screen 1, come possiamo vedere, si chiama screen 1 il titolo che si trova qui sopra, ecco qui, e lo chiamiamo pannello di controllo. Pannello di controllo, ok, perfetto. Vabbè, poi è possibile mettere anche uno sfondo, allineare tutte le applicazioni, il nome dell'applicazione, un'immagine di sfondo e varie altre, anche un'icona, soprattutto un'icona dobbiamo inserire dopo. Quindi qui possiamo anche rendere la nostra applicazione scrollabile, quindi scendere sopra e giù, eccetera. Allora, adesso facciamo solo una base dell'applicazione che vogliamo realizzare. Successivamente andiamo ad abbellire la nostra applicazione. Premiamo sul nostro button 1, button 1, ecco qui. Scendiamo giù a tutto, cancelliamo tutto questo text, e inseriamo ON. Premiamo anche sul button 2, e scriviamo OFF. Una volta inseriti i due bottoni, la cosa essenziale che dobbiamo andare ad inserire è la connessione al nostro modulo Bluetooth. Come si fa questo? Adesso non andiamo ad inserire un altro bottone, ma benzi una list picture. Una volta inserito il list picture 1, come possiamo vedere, non è altro che una lista di componenti, quindi nel nostro caso una lista di tutti i indirizzi MAC address dei Bluetooth intorno a noi. Lo chiamiamo scansiona. Scansiona. Ecco qui. Adesso dobbiamo regarci anche qui, dobbiamo inserire la voce notifica, perché una volta che il modulo Bluetooth sarà collegato, uscirà una notifica di connesso. E' anche facoltativo questo qui, possiamo anche non inserirlo. Poi ci reghiamo nella sezione... Connettività. Ed inseriamo il Bluetooth client. Quindi, che significa? Che dato che noi siamo un client, ci colleghiamo al nostro Bluetooth che sarà acceso. Una volta fatto ciò, come possiamo vedere, questa è solo l'interfaccia di design. Questo che significa che è solo la parte estetica della nostra applicazione. Adesso, dobbiamo andare a costruire il codice. Come ho detto prima, App Inventor è una sorta di scratch, quindi un linguaggio a blocchi, quindi una sorta di puzzle. Questi puzzle si trovano nella sezione blocco, in alto a destra. Ecco qui. Basta premerci. Come possiamo vedere, ci comparirà questa interfaccia. Questa è il nostro foglio bianco, dove è possibile spostare tutti i vari puzzle per creare la nostra applicazione. Invece a sinistra ci sono tutti i comandi che è possibile inserire. La prima cosa da fare adesso è inserire una variabile, quindi ci reghiamo nella sezione variabile. Inizializziamo una variabile. E la chiamiamo device. In questa variabile dovrà andare a finire l'indirizzo del nostro modulo Bluetooth. Quindi andiamo nella sezione text e la inizializziamo come vuota. Ecco qui. Una volta aver inizializzato la nostra variabile vuota, la quale conterrà il nostro indirizzo del modulo Bluetooth, ci reghiamo nella list picture. E selezioniamo before picture. Quindi una volta che noi andiamo a premere questa nostra list picture, andiamo a fare un controllo, quindi in contro, andiamo ad inserire un if, e andiamo a vedere se il nostro Bluetooth è stato attivato oppure meno. Quindi andiamo, premiamo su client, Bluetooth client, ecco qui, scendiamo in basso, e andiamo a inserire questo blocco qui. Ecco qui. Quindi abbiamo detto che una volta che noi premiamo sul bottone, quindi che si chiamerà list picture, e il nostro Bluetooth è attivato, adesso premiamo su list picture, e ci reghiamo, selezioniamo uno a caso, ad esempio questo qui, e andiamo a selezionare elements, ecco qui. Questo che significa? Che dobbiamo settare gli elementi, quindi list picture, a qualcosa, to qualcosa. In questo caso andiamo ad inserire l'indirizzo del nostro modulo Bluetooth, quindi client, ecco qui, address name. Quindi in questo modo che cosa abbiamo fatto? andiamo ad inserire, andiamo a settare la nostra picture box con tutti gli indirizzi disponibili dal modulo Bluetooth. Quindi uscirà un elenco lunghissimo di tutti gli elementi di i moduli Bluetooth intorno a noi, oppure di tutti i moduli Bluetooth che noi abbiamo fatto un'associazione. Una volta fatto ciò, inseriamo una notifica, una notifica, ad esempio eccola qua, e facciamo un if, perché se casomai ci siamo dimenticati di attivare il modulo Bluetooth, inseriamo una notifica qui, e diciamo attivare il modulo Bluetooth, attivare il Bluetooth in questo caso. ecco qui, una volta fatto ciò, dobbiamo collegarci al nostro modulo Bluetooth, quindi, mettiamo after, una volta aver premuto questo nostro bottone, andiamo a settare, quindi andiamo in variabile, andiamo a settare la nostra variabile, qui andiamo a memorizzare, ecco qui, Global Device, che si troverà nella list picture 1, Selection, quindi che significa? Che andiamo qui, ad esempio premiamo questo qua, e andiamo a selezionare qui, Selection, quindi quando ci comparirà l'elenco, di tutti gli address name, del modulo Bluetooth, andiamo a selezionare un modulo Bluetooth, e quell'indirizzo Mac, che abbiamo selezionato, andrà a memorizzarsi, nella nostra variabile Global Device, Una volta fatto ciò, ci richiamo nella sezione, do tutto client, e andiamo a collegarci, al nostro indirizzo, però prima di fare ciò, dobbiamo settare, la nostra variabile, xpicture, quindi ci richiamo qui, prendiamo uno a caso, come sempre, perché non lo riesco mai a trovare, ecco qui, quindi, adesso ci andiamo a collegare, alla nostro, al nostro Bluetooth, che sarà, un HC06, un HC05, e a che cosa dobbiamo collegarci, a quella, alla variabile Global, ecco qui, get Global Device, una volta fatto ciò, abbiamo effettuato, una connessione, col modulo Bluetooth, però noi non lo sappiamo, quindi, copiamo questo qui, lo inseriamo sotto, e una volta fatto ciò, scriviamo, connesso, o connessione effettuata, una volta aver effettuato, la connessione, al modulo Bluetooth, premetto che, questa qua è solo una base, perché noi potremmo mettere, tanti, altri controlli, quindi ad esempio, mettiamo, se mi sono collegato, quindi altri, if, quindi se mi sono collegato, allora, vibra ad esempio, oppure una volta che mi sono collegato, suona, ci sono tanti controlli, da poter fare, noi adesso stiamo facendo, solo una struttura, una base, una volta aver fatto ciò, ci richiamo in button 1, e mettiamo che, una volta che abbiamo cliccato, il button 1, inviamo, un segnale, quindi un text, una text, ad Arduino, come facciamo questo, andiamo in client qui, e, andiamo in send, send text, eccolo qui, prendiamo, inseriamo qui, e, copiamo, andiamo in text, in questo caso, e inviamo, 1, allora, il button 1, andiamo di nuovo in design, il button 1, eccolo qui, è on, quindi noi, quando premiamo, il tasto 1, quindi il bottone 1, inviamo ad Arduino, il valore 1, viceversa, quindi andiamo a copiare, e incollare, button 1, ecco qui, selezioniamo, il button 2, e inviamo, 0, ecco qui, allora, quindi ricapitoliamo, abbiamo, settato una variabile, che si chiama device, oppure la potiamo chiamare, anche indirizzo, oppure bluetooth, vuota, che cosa succede, che una volta, che noi abbiamo attivato, il modulo bluetooth, e aver premuto, sull'ext picture, ci comparirà, una, lista, di tutti, i mac address, degli indirizzi bluetooth, e una volta, aver selezionato, il nostro indirizzo bluetooth, andiamo a memorizzarlo, nella variabile, set global, la quale, si connetterà, ad arduino, quindi noi, ci andiamo a collegare, all'indirizzo, di arduino, una volta fatto ciò, ci uscirà una notifica, con scritto, connesso, e infine, una volta effettuata, la connessione, noi invieremo, ad arduino, 1 e 0, qui ad esempio, possiamo mettere, anche un altro if, mettiamo, ad esempio, if, se il modulo bluetooth, è connesso, allora, invia 1, perché, nel nostro caso, adesso, noi inviamo, volendo, possiamo anche inviare 1, oppure 0, senza aver fatto, la connessione, quindi questo comporterebbe, o un blocco, dell'applicazione, oppure il non funzionamento, quindi volendo, qui è possibile mettere, due if, if, se il modulo bluetooth, mi sono connesso, allora, mi invio 1, altrimenti, possiamo inserire, una notifica, attenzione, bisogna prima collegare, il modulo bluetooth, come premetto, questa qua, è solo una base, per effettuare, un semplicissimo controllo, di un'accensione, di uno spegnimento, del led, Allora, una volta fatto ciò, dobbiamo inserire, la nostra applicazione, sopra, il nostro mobile, come possiamo vedere, in basso a sinistra, non c'è nessun errore, quindi è possibile, salvarla, nel nostro formato, APK, ci sono due metodi, per salvare, la nostra applicazione, il primo, è scansionare, un codice QR, quindi bisogna scaricare, un'applicazione, sul playstore, di Meet App Inventor, e una volta scansionato, il codice QR, è possibile, avere l'applicazione, direttamente, su mobile, oppure il secondo metodo, è scaricare, un'applicazione, APK, ed installarla, sul nostro dispositivo mobile, adesso andiamo, ad utilizzare, il secondo metodo, quindi ci richiamo, build, e salviamo, la nostra applicazione, nel formato APK, nel nostro computer, una volta aver premuto, inseriamo ok, e aspettiamo, il caricamento, una volta aver finito, il caricamento, come possiamo notare, ci comparirà, un file, in basso a sinistra, arduino.blu.apk, che cosa dobbiamo fare? dobbiamo copiare, questo file, .apk, e spostarlo, nel nostro dispositivo mobile, quindi creiamo, una cartella, una cartella, la chiamiamo, APK, e incolliamo, il file dentro, una volta, una volta fatto ciò, rimuoviamo, il nostro dispositivo, e andiamo a vedere, su mobile, come avviene l'installazione, una volta che l'applicazione, è stata spostata, sul nostro dispositivo, ci richiamo in, SD, APK, e andiamo ad installare, la nostra applicazione APK, ci premiamo sopra, andiamo nelle impostazioni, ed abilitiamo, l'opzione, sorgenti sconosciute, consenti solo per questa, per questa installazione, va bene così, ok, ed installiamo, una volta che l'installazione, è completata, premiamo su apri, ecco qui, la nostra applicazione, abbiamo i nostri tre pulsanti, di on off, e scansiona, premiamo su scansiona, e come possiamo vedere, sta scritto, attivare il bluetooth, quindi andiamo indietro, ed attiviamo, il nostro bluetooth, una volta che il nostro bluetooth, è stato attivato, qui ci sono alcune configurazioni, da fare, che non sono fatto, ok, andiamo su scansiona, ci uscirà sempre, la notifica, di attivare il bluetooth, quindi per promemoria, come possiamo vedere, c'è una lista, di tutti gli indirizzi, MAC, del modulo bluetooth, che si trovano intorno, in questo momento, oppure, dei moduli bluetooth, associati, una volta aver visto, che il pulsante funziona, andiamo a prendere, il nostro hc06, e lo colleghiamo, adesso andiamo a collegare, attraverso il cavo usb, il nostro arduino, una volta aver collegato, il nostro arduino, al pc, come possiamo vedere, il led, del modulo bluetooth, lampeggia, questo perché, perché ancora, deve ricevere, un client che si è collegato, quindi torniamo indietro, facciamo di nuovo, scansiona, ok, l'abbiamo attivato, e andiamo a selezionare, adesso, il nostro hc06, come possiamo notare, il led, sul modulo bluetooth, si è fermato, quindi, adesso ci basta, premere solo, 0 e 1, quindi, che significa questo, dobbiamo premere, on e off, premendo on, il led, come possiamo vedere, questo qui piccolino, si è acceso, off, spento, quindi, on, off, on, off, adesso, grazie a questo metodo, abbiamo capito, come inviare, un valore, 0 o 1, ad arduino, però, dobbiamo fare una premessa, senza controlli, questo che significa, che se, ad esempio, il nostro modulo bluetooth, non si era collegato, correttamente, non ci usciva scritto, sul nostro, sulla nostra applicazione, ragazzi, il video termina qui, se avete problemi, domande, basta commentare, ho anche inserito, un file apk, eccolo qui, file apk, on, off bluetooth, quindi questo qui, funziona sicuramente, se siete dubitosi, della vostra applicazione, basta scaricare, questo file apk, di Injamax, e siete sicuri che, l'applicazione, funziona correttamente, mi sono anche da poco, iscritto su instagram, vi lascio il nickname, qui da qualche parte, se volete, potete seguirmi, il video termina qui, un saluto da Injamax, al prossimo video, il video termina, buiski, il video termina, ben zwarte, code, ,